è iniziata è iniziata dovrebbe essere iniziata non si sente l'audio del desktop eh no non si sente l'audio sul piccolo problema vabbè non potremmo fare perché non si sente allora adesso devo dire una cosa che viene aspetta lì aspetta aspetta non si sente l'audio del desktop aspetta che cavolo si fa no non c'è questo youtube con tour l'audio di uscita no non è questo cattura l'audio di entrata no forse è entrata e uscita no no è l'incontrario non c'è che sto capendo niente aspetta cattura uscita credo che sia aggiunge un altro no aspetta cattura l'audio di uscita ok ok parla ok si sente si sente a posto adesso però si è andato a problema ok la linea è standard a posto però tutti ragazzi sono F66Gamer e oggi siamo con Kevin e oggi cosa facciamo questo coppia no aspetta a squadre assalto sembra carino facciamo questo può fare di essere il costruttore eh dopo lo proviamo è una volta un po' dopo lo proviamo tutto oggi proviamo tutto è avvenuto il tuo aggiornamento dell'estate fornito in vacanza per due settimane si adesso che mi sentono perfetto lago no aspetta lago a metà vabbè a me oh c'ho messo in me c'ha fare la metà cos'è Arista a squadre del sifone che ne so è il coordinato a sinistra lo so lo so questo è apposta quando arrivi a terra cerco un'arma ah grazie no guarda ancora la gente gli altri ti fanno che consigli credo lei come farò senza di lei sa pure il tuo fratello dove è mio fratello ok allora l'obiettivo è sempre 150 cos'è che è cambiato beh ci sono i termosifoni wow che che è ma è uguale non c'è di niente Kevin Kevin ho 200 di ping genio grazie andiamo a pinnacole noi siamo forti perché ho decine di ping quando facere live bello guarda la mia live io ho 60 fps io ho 30 di fps ma proprio 248 è infattibile cioè io preferisco giocare in Oceania piuttosto giocare in Oceania non ne doveriamo guarda 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 andrea andrea la gab mince fino eh ti ho visto eh ti ho visto noooo wow 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 ok Kevin proviamo in modalità costruttori di cui sono fuori è uguale non cambia niente sei uscito? no no sono ancora di generazione non cambia niente cambia solo con 250 di ping per colpo di chi? forse dalla nera no cambia che abbiamo già lo scudo guarda vero 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 non lo avevo ma perchè si fone? solo per questo perchè si fone? non me lo chiederei non ho senso pr 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 dai ameno adesso 69 di ping non c'è madre ecco chi sale ecco non c'è nulla dubbio è ancora decente mi tocca chiedere la live guarda faccio prima nooo vabba ci gioco un po' ragazzi questo è la live della qualità estremo quindi per è una qualità proprio emozionante armi leggendarie non so come se non uscite già i cittadini però vabbè ok io ho chiamato uno perché si pone poi hai beato te con due di ping perché due di ping va la io no si che culo sta scendendo non avevo dubbi che vuoi fare di merda anch'io sto laggando dvd un pochino dada la mia live seppure bloccata bene che live fatta bene ok ragazzi mi tocca togliere il live porcaelo ciao ciao